Ciao! Oggi prepareremo le bombe frizzanti per il vostro bagno! Occorrente! Un bicchiere di bicarbonato di sodio, mezzo bicchiere di effervescente naturale, mezzo bicchiere di amido di mais, mezzo bicchiere di sale marino, olio di mandorle, olio essenziale profumato, un recipiente, colorante alimentare, stampini vari. Mescoliamo bicarbonato di sodio, effervescente naturale, amido di mais e sale marino. Attenzione a non far venire i grumi! Mescoliamo a parte un cucchiaio di olio di mandorle, un cucchiaio di olio essenziale e qualche goccia di colorante alimentare. Aggiungiamo ora questa miscela mescolando velocemente, cercando di non far sciogliere l'effervescente. Procederemo aggiungendo olio finché il composto non inizia ad agglomerarsi nelle mani. Riempiamo gli stampi! Adesso lasciamo riposare tutto quanto per un giorno intero. Ed ecco la nostra bomba frizzante! Si possono usare anche per profumare armadi e cassetti. Provate a farle anche voi! Scrivetemi nei commenti e ditemi come vi è riuscito l'esperimento! Ciao!